eccola qua la vedete alle mie spalle parliamo di ktm breaking news direttamente dalla redazione di red arrivata fresca fresca oggi la notizia della nuova 1290 super duke rr la versione più extreme della beast della bestia di ktm una novità non assoluta perché due anni fa ktm propose già una 1290 rr ma adesso arriva aggiornata alle ultime ultime release qualche numero per voi innanzitutto vi dico che arriva da oggi dai concessionari dal 13 di marzo 500 esemplari quindi fatevi sotto se la volete prendere e soprattutto rapporto peso potenza 1 a 1 180 kg per 180 cavalli 180 kg raggiunti grazie al grande utilizzo di carbonio ruote forgiate sospensioni vp di altissimo livello ma non semi attive prezzo 26.990 euro come vi ho detto arriva da oggi tutte le informazioni le altre informazioni le trovate sul sito di redline.it